buona giornata amici da massimo fughetti oggi è venerdì 16 dicembre 2022 cominciamo la nostra giornata con la rassegna stampa di fanu tv leggiamo come sempre insieme il resto del carlino e il corriere adriatico su pagine locali cominciamo però con l'almanacco del giorno e vediamo che oggi lo vediamo qui dalla grafica si festeggia santa del aide santa del aide era una imperatrice visse nel decimo secolo in francia divenne la moglie di ottone primo ma già a 16 anni aveva già sposato l'otario secondo di provenza di cui rimase vedova piuttosto giovane ecco perché appunto in seconde nozze sposò ottone primo e dovere dei ricchi diceva usare misericordia verso i poveri quindi aveva un animo molto molto caritatevole di animo nobile ma non dal punto di vista del lignaggio ma anche dal punto di vista della sensibilità resse l'impero nel periodo di reggenza fino a quando il nipote ottone terzo non raggiunse la maggiore età e governò con saggessa e misericordia dunque santa del aide imperatrice ed ora passiamo alle previsioni del tempo tempo instabile e perturbato su tutte le marche questa mattina con piogge da prima sulle aree settentrionali e poi in appennino dal pomeriggio il maltempo si estenderà un po ovunque su tutta la regione i venti sulle coste espireranno con una tensione debole da sud e sud ovest nell'interno sempre con una tensione debole sempre con la stessa direzione sud e sud ovest le temperature si aggireranno dai 7 ai 12 gradi leggermente si innalzano le temperature minime ma si abbassano quelle massime il mare continua a essere molto molto mosso ed ora apriamo i giornali a partire oggi dal corriere adriatico sulla pagina di fano vediamo che l'apertura è dedicata a un fatto di cronaca attenzione ad andare al mercato mercoledì scorso e sabato sono i due giorni e in cui si svolge il mercato in centro storico a fano ebbene è stata trovata una borseggiatrice che aveva rubato il portafoglio ad un anziano mentre questi stava facendo delle compere nei pressi di una bancarella questa è stata tradita dal nuovo telefonino con il portafoglio e quindi il denaro che aveva rubato era andata subito in un negozio a parte il fatto che aveva prelevato già nel bancomat sostanziali cifre era andata in un negozio a comprarsi il telefonino e questo l'ha tradita un anziano fanese è stato derubato durante il mercato del sabato in piazza 20 settembre e per fortuna gli agenti del commissariato sono riusciti ad individuare la ladra si tratta di una 27enne originaria dell'est europeo residente in romagna è stato recuperato il portafoglio il cellulare che secondo gli investigatori sarebbe stato acquistato in un negozio del centro storico con la carta bancomat sottratta all'anziano ebbene quando il pensionato si è sentito sfiorare nel retro qualcosa insomma ha capito subito che gli stavano prelevando il portafoglio si è girato ma con uno scatto la donna che aveva rubato appunto i soldi si è dileguata tra la folla l'uomo però non ha desistito è andato subito al commissariato così come dovrebbe fare chiunque in questi casi e ha denunciato il fatto subito sono partite le indagini che hanno individuato la ladra la quale è stata dunque arrestata sgombrato a questa un'altra notizia di cronaca che viene evidenziata oggi su tutti i quotidiani si parla dell'ex convito colonna un grande complesso posto subito dopo il centro storico di fano che rimane in disuso da tanti tanti anni ed è veramente un peccato perché è un complesso edilizio di grande importanza di grande levatura copre quasi un intero isolato e ci sono molte strutture dentro addirittura c'è anche un teatro un cinema teatro all'interno oltre a edifici stanze camerate insomma è un grande complesso che peccato che non venga utilizzato ebbene sono stati trovati su denuncia appunto di persone che vedevano una strana frequentazione di questo edificio la recensione viene facilmente superata perché insomma non è un limite invalicabile e sono state trovate otto persone abusive che vivevano dentro erano senza tetto che vivevano dentro il grande complesso sono stati gli agenti della polizia locale che sono entrati nell'ex convito vittoria colonna sono state trovate dunque otto persone senza fissa dimora poi sono state denunciate per l'occupazione abusiva dell'immobile un immobile nel cui interno si è trovato anche un forte degrado e tra l'altro si è trovata anche una bicicletta marca Eusebi che era stata rubata nel corso dell'operazione da parte degli agenti dico è stata trovata questa bicicletta che è stata riconsegnata al legittimo proprietario e sono ricorrenti le occupazioni abusive del vittorio colonna insomma chi non ha una casa si trova questo complesso e ovviamente cerca di sfruttarlo e poi un'altra notizia invece che evidenzia come l'amministrazione comunale di fano sia determinata a portare avanti il progetto della ultimazione dell'interquartieri nonostante che non sia più possibile accedere ai finanziamenti dei 20 milioni di euro che erano stati promessi al comune di fano per così rendere migliori i collegamenti tra fano e pesaro ebbene il comune di fano trova i soldi per conto suo per realizzare l'interquartieri ovvero che cosa intende fare intende accedere ad un mutuo mutuo ventennale che possa così dare la possibilità all'amministrazione di usufruire di 25 milioni non di 20 ma di 25 milioni perché il progetto è cambiato ha assorbito le direttive della soprintendenza la quale ha dato un parere positivo ed ora va avanti utilizzerà o l'avanzo di bilancio che è un avanzo sostanzioso oppure accederà a questo mutuo per 25 milioni la proroga prevista dalla legge la giunta seria prova il progetto e conta di salvarsi dalla perdita dei fondi e vediamo anche qui in questa mappa in questa cartina geografica l'itinerario si distingue poco purtroppo però vediamo che si parte appunto dal parcheggio del circolo tennis si valica le torrente arzilla e poi si procede verso la statale adriatica all'altezza delle casette di baia del re insomma i fanesi conoscono la situazione a fondo pagina invece abbiamo una presa di posizione del consigliere regionale lucas serfilippi il quale è presidente della commissione che si occupa di ambiente e territorio e annuncia che giovedì prossimo andrà in commissione la legge sugli ampiamenti agrivoltaici gli ampiamenti agrivoltaici al momento non sono regolati quindi la gente le associazioni le società cercano di approfittare di questo vuoto legislativo per imporre i loro progetti la legge regionale invece dovrà tutelare il territorio dovrà dire dove si potranno realizzare questi impianti che sono importanti perché la crisi energetica ancora incombe ed incombe anche nel nostro territorio però senza ferire il territorio stesso senza provocare guasti ambientali di cui poi ci si dovrà pentire agrivoltaico tuteleremo le aree di pregio è una dichiarazione appunto di serfilippi e poi vediamo che oggi si svolge un importante convegno alla mediatica montanari in cui si parlerà degli studenti stranieri che frequentano le scuole cittadine studenti stranieri che sono cresciuti alquanto da 20 anni a questa parte passando dal 4,2 al 12,2 per cento di tutta la popolazione scolastica pensate come questo abbia influito nell'evolversi nell'evolvere la attività didattica stessa ma anche come abbia influito sulla società sull'aspetto sociale del problema sono persone sono ragazzi generalmente nati a Fano sono di seconda generazione vivono in famiglie che sono nate all'estero quindi assorbono anche parte della cultura del paese d'origine dei loro genitori sono praticamente italiani sono fanesi addirittura parlano anche il dialetto fanese ebbene di tutto questo parleranno due esperte l'iniziativa viene organizzata dall'assessore samuele mascarin dei servizi educativi insieme alla università di urbino insieme a uni urb passiamo alle altre notizie vediamo che a fossombrone c'è un pressing su salta martini dica se ora rispetta le promesse sono le iniziative ne abbiamo parlato anche ieri della delle consigliere regionale marta ruggeri del movimento 5 stelle di miccaele vitri del partito democratico che affermano come punto cruciale sia l'inserimento di fossombrone nella rete dei nosocomi insomma si vuole riabilitare l'ospedale di fossombrone è stato così molto molto abbassato per quanto riguarda un rango di prestazioni salute e sostenibilità premiate invece le nuove terme di carignano gli imprenditori che si accingono a realizzare questo grande progetto sono stati premiati da un'istituzione internazionale ovvero un'istituzione inglese si tratta della vediamo un po' è stata premiata a londra nella bellissima churchill room nella house of commons westmisters ed è appunto del parlamento inglese hanno ricevuto gli imprenditori che si accingono a realizzare il progetto di carignano il bond street awards premio assegnato alle aziende imprenditori e manager la cui cultura di impresa corrisponde ai più elevati standard etici e professionali soprattutto quelli di carattere ambientale di carattere etico e il progetto delle terme di carignano risponde a questo disegno di minore impatto per quanto riguarda l'ambiente addirittura se uno osserva il panorama dall'alto delle colline circostanti la piana di carignano vede poco di quello che sarà poi la manomissione del territorio ovvero la costruzione delle terme stesse dell'impianto termale un importante riconoscimento prima di cominciare così lo possiamo definire ed ora andiamo in montagna andiamo in montagna a Serra Sant'Ambondio perché vediamo che c'è un appello per valorizzare questi aspetti ambientali del nostro entroterra c'è un appello che soprattutto acquista valore dopo le alluvioni che hanno distrutto che hanno seminato veramente dei grossi problemi all'assetto ambientale delle nostre colline e delle nostre montagne la regione dia 100 milioni la montagna è una priorità a parlare così è il presidente nazionale dell'UNCEM Bussoni che chiede al governo 10 miliardi in 10 anni 10 miliardi in 10 anni vuol dire un miliardo all'anno per i comuni montani è uno special focus per il comprensorio distrutto dall'alluvione del 15 settembre scorso nei luoghi sacri dove è stata fondata la carta di Fonte Avellana nel monastero appunto camaldolese del Santa Croce e poi Serra Sant'Ambondio la montagna annuncia che intende muoversi per ottenere questi fondi e lo fa con delle credenziali veramente di valore e intanto vediamo che i lupi ormai non hanno più paura di nulla si avvicinano tranquillamente ai centri abitati una coppia di lupi è stata avvistata e sono rimasti lì immobili non si sono spaventati appunto dal passeggio e dalla presenza di persone nei pressi di Castelvecchio nel comune di Monteporzio una coppia di lupi alle porte della cittadina sono rimasti fermi praticamente immobili in un'area verde e si sono fatti fotografare e filmare dagli automobilisti di passaggio i lupi in genere hanno paura dell'uomo cercano ovviamente di alimentarsi cercano animali piccoli anche animali un po' più grandi come ovviamente pecore, capre anche cerbiatti, caprioli e via dicendo però insomma non si dovrebbe avere paura dico l'uso incondizionale perché è d'obbligo perché quando magari sono nelle vicinanze dell'uomo scappano e non cercano storie e i lupi sono abbastanza intelligenti in questo caso e vediamo ora la pagina di Senigallia dove si parla dell'allerta meteo comprati 110.000 SMS così i cittadini saranno informati il comune di Senigallia ha comprato con 110 ha comprato scusate con 13.000 euro 110.000 SMS così ogni cittadino potrà essere avvisato sul suo cellulare se c'è un'allerta meteo e quindi stare allerta stare in campana per essere pronto a fronteggiare situazioni di emergenza questo è un modo capillare per avvisare tutti in questo caso non servono annunci radio non servono i mass media insomma si cerca di trovare il modo di avvisare singolarmente persona per persona e il comune appunto ha acquistato questo pacchetto perché non vuole più essere colto impreparato la malattia fa meno paura riapre la sala rosa dopo il covid a Senigallia è operativo il nuovo spazio dedicato alle pazienti oncologiche sappiamo come anche le altre malattie quando era il periodo della pandemia abbiano subito dei problemi per le cure dato che l'attenzione preeminente era dedicata al covid vediamo anche qualche pagina pesarese dove le notizie più importanti vengono dedicate agli investimenti che farà il comune di Pesaro nelle scuole sei cantieri per rivoluzionare qualità e sicurezza nelle scuole costruzioni ex nuovo e strutture aggiuntive con l'anno nuovo la parola d'ordine sarà efficientamento si accorciano dunque i tempi per avviare quei cantieri che porteranno a ricostruire ex nuovo alcune scuole pesaresi dal prossimo anno scolastico gli allunni e le maestre della primaria Anna Frank di Santa Maria delle Fabrecce traslocheranno a Vismara per dar corso ai lavori di costruzione della nuova scuola a servizio dei quartieri più a nord della città di Pesaro e dopo la media Brancati Olivieri di Via La Marmora la scuola Anna Frank demolita e ricostruita sarà ancora più ecosostenibile e innovativa e questo è già un secondo progetto vediamo un terzo progetto l'altro cantiere da avviare come noto riguarda la nuova scuola media Dante Leghieri di Soria in questo periodo invernale non si può partire con i cartieri importanti ma è un lavoro programmato per il 2023 progetto in arrivo anche per la nuova mensa della Pirandello di Via Nanterre con circa 582 mila euro di risorse e 5 milioni di euro che il Comune si è giudicato destinati alla ristrutturazione e efficientamento sismico della media Manzoni questi sono i servizi che il Comune di Pesaro cerca di valorizzare e di porre l'attenzione appunto del governo con i fondi del PNRR Laboratorio di Biotecnologie e l'avanguardia entra in classe si parla sempre di istituzioni scolastiche la struttura dedicata a Carlo Urbani fondi guadagnati dai ragazzi è un'iniziativa questa che si svolge all'interno del liceo scientifico musicale e coreutico Guglielmo Marconi di Pesaro uno degli istituti di eccellenza e qua abbiamo un caso particolare pensate un agricoltore in carrozzina il suo sogno è avere un trattore adattato alla sua disabilità ieri mattina nella Sala Rossa del Comune è stata lanciata ufficialmente una raccolta di fondi collettiva online sul portale di GoFundMe per iniziativa del Centro Servizi per il Volontariato delle Marche e la fondazione Vanda di Ferdinando di Pesaro ebbene si cerca di raccogliere fondi per acquistare un trattore adattato per Alessandro Alessandro è un agricoltore che ha avuto un incidente stradale per cui non può più camminare con le sue gambe è in carrozzina però la sua passione per il territorio per l'agricoltura per le coltivazioni lo incentiva a darsi ancora da fare a non starsene inerte e quindi a cercare di continuare a lavorare come presso a poco faceva una volta e quindi è un'iniziativa di grande solidarietà e di grande merito per questo ragazzo fare l'alba al museo archeologico una notte di avventure e spettacoli sembra di rivivere l'atmosfera di un film che ancora viene trasmesso nelle reti televisive una notte in museo ebbene questa volta la notte al museo la si vivrà nei musei oliveriani non accennano a terminare anzi aumentano intensità e creatività i festeggiamenti per l'inaugurazione del museo archeologico oliveriano che ha riperto i suoi battenti recentemente stupire i visitatori con un caleidoscopio così viene definito programma in loop per tutta la notte tra musica letture teatro incontro con l'autore visite guidate gratuite al museo oliveriano e se uno una volta nella vita non vuole dormire la notte e vuole passare una notte non un giorno ma una notte all'interno di un'istituzione prestigiosa come il museo oliveriano interessato coinvolto in tante iniziative ebbene lo potrà fare la lunga notte oliveriana avrà inizio alle 21 nella suggestiva sala dello zodiaco con il recital delle piccole voci di libri Greta Ceglia Giulia Esposto Deglia Marchigiani Leonora Maciocchi e Elisa Vimini leggeranno Sei un mito a cura di Lucia Ferrati che è una bravissima attrice e poi dalle 22.30 ogni ora visite guidate del museo oliveriano a cura della direttrice dell'ente Olivieri Brunella Paolini abbiamo poi tante altre iniziative che vengono evidenziate in questa parte dell'articolo e veramente si potranno conoscere tutte le meraviglie e tutti i reperti che sono costuditi nel museo archeologico a partire dal Lucus Pesarese dai ritrovamenti di Novilara insomma e da tutti i reperti che sono venuti alla luce nel territorio sin dall'epoca preromana giriamo la pagina e siamo a Durbino dove si parla del restauro dell'ex convento di Santa Chiara a cui sono dedicati dei libri Nuova luce sull'arte ceramica a Santa Chiara scoperte preziose terrecotte e maioliche lo rivelano due volumi in occasione dei dieci anni del restauro del complesso dell'ex convento Santa Chiara nell'Aulamagna dell'Isia ci sarà appunto una presentazione al pubblico di due gioielli editoriali i volumi un capolavoro che risorge e questo è il titolo di un primo volume e ceramiche d'eccellenza opere di prestigio dedicate al recupero del monastero ed ora apriamo il resto del Carlino e vediamo come l'apertura è dedicata al controllo che è stato fatto dagli agenti del commissariato al Vittorio Colonna vediamo qui anche delle fotografie molto significative l'ex convitto al setaccio degrado e abusivi stato trovato appunto gli abusivi gli otto abusivi e il degrado per come si trovano mobili sporcizia e via dicendo otto persone tutti stranieri irregolari di età compresa tra i 20 e i 40 anni quattro tunisini un gambiano un marocchino un guineano e un romeno alloggiati con sistema di fortuna in quegli ambienti veramente sporchi e fatiscenti che da tempo spessano di essere bonificati c'è anche una dichiarazione del sindaco Massimo Seri il Vittorio Colonna abbiamo sempre monitorato nel corso degli anni con l'intento di evitare che fosse luogo di situazioni pericolose e minacciassero l'ordino pubblico in realtà quella gigantesca struttura di proprietà dell'ex Enam ora Inps che occupa diversi ettari di terreno a ridosso del centro storico è l'ennesima gigantesca area dismessa su cui di tanto in tanto qualcuno stimola un dibattito Comune ovviamente non può fare niente se non stimolare gli enti preposti a utilizzare a valorizzare questo grande complesso su cui ci sono progetti che però rimangono nel cassetto ed è un vero e proprio peccato variante Gimarra da oltre 25 milioni la Giunta approva il nuovo tracciato un progetto che non viene messo questo nel cassetto ma l'amministrazione comunale evidenzia ancora tutta l'intenzione di realizzarlo e poi l'articolo di cronaca gli soffia il portafogli presa arrestata una giovane vittima un ultra settantenne che faceva compere al mercato abbiamo visto come il problema si è risolto invece invece desta preoccupazione queste truffe che vengono orchestrate ai danni della Croce Rossa la denuncia Daniele Cameracan che è la presidente della Croce Rossa Fanese ebbene si tratta di telefonate che giungono anche dall'estero in questo caso giungono da Zurigo si tratta di un uomo che al telefono ha detto che c'era stato un grosso incidente stradale che aveva avuto il recapito da una persona di reciproca conoscenza e che c'era bisogno urgentemente di fare un bonifico per i soccorsi ovviamente Daniele Cameracan non ha beccato insomma questo invito però la cosa è stata denunciata alle forze dell'ordine ma non è la prima volta perché poi c'è stato anche un altro precedente un tizio aveva chiamato in banca chiedendo aiuto alla Croce Rossa dicendo che aveva incaricato di fare un bonifico urgentissimo appunto per conto della Croce Rossa vogliono soldi queste persone vogliono soldi millantando situazioni che in realtà non ci sono ed è una truffa vera e propria e poi guardate questa bella fotografia sono centinaia i Babbi Natale che partecipano a questa maratona a terre roveresche si parte domenica mattina questo è il titolo la novità si affiancherà anche una camminata di 7 chilometri divertimento e solidarietà sono le due combinazioni che rendono più caldo e così piacevole l'atmosfera di Natale e con questo noi concludiamo la nostra rassegna stampa vi do appuntamento come sempre a domani alle ore 7 grazie per l'ascolto a risentirci grazie per la visione